A qua da tutti e benvenuti nella puntata numero 9 su Subnautica Signori, finalmente abbiamo la nostra base subacquea dove ci possiamo muovere con tranquillità Allora signori, prima di andare a farci nuove costruzioni, quest'oggi dobbiamo andare alla ricerca di Ariosaki per farci un po' d'acqua Visto che abbiamo alcune esigenze abbastanza importanti Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate Allora vado a cercare un po' di Ariosaki, vai Ma... ma... Che c... no, no, si è buggato, è rimasto sospetto Ok, si è salvato, oh è sceso, oh mio dio, pensavo si fosse buggato Ariosaki Chi è? Ma che... Chi è? Oh l'ha colpito, oddio, c'è uno stalker, c'è uno stalker, aiuto Uno stalker, avanti, qualcuno bussa a casa Ok signori, mi sono fatto una scorpacciata di Ariosaki Così almeno quest'oggi non abbiamo problemi sull'acqua e ci possiamo concentrare sulle altre costruzioni Cosa costruiremo quest'oggi se magari Pierluigi non fosse sordo e non ebbe asse a mettere l'italiano? Potrebbe essere il riciclatore, ma ci serve la cavetteria e la fibra a rete Per fare la cavetteria vediamo un po' cosa ci serve L'argento, e ce l'abbiamo, l'argento ce l'abbiamo Quarzo, argento La fibra a rete, come si fa la fibra a rete? Fibra a rete che si fa con il campione di Creepvine E non dovrebbe essere un problema Quindi ci facciamo la cavetteria, signori Ecco qui E ci serve adesso il campione di Creepvine Campione di Creepvine marcio Penso sia la stessa cosa E ce ne serve un altro Quindi adesso andiamo alla ricerca del Creepvine Quindi dobbiamo... Non sempre qua sta questo, ma io davvero Io fino alla fine ti ammazzo, eh Vabbè, troviamoci in Creepvine Però il problema è che ogni volta che incomincio Una maledettissima puntata È incredibile È sempre buio Sparete Creepvine Eccole Allora Non si vede nulla Io vado a tentativi, eh Creepvine Allora Calmi Uno E due Fatto Ce ne ritorniamo Va bene Abbiamo trovato ciò che ci serviva Eeeh Mamma mia Ma con che enfasi proprio Vado Apri Ok Allora Siamo pronti a farce La fibra Fibra Ok Ce ne servivano due Ce l'abbiamo fatta E adesso, signori Ci possiamo fare Il riciclatore Preserva l'ossigeno Nelle immersioni profonde Assorbe e ricicla CO2 in aria respirabile Vada così Vada Vada Non cingischi Vai Benissimo Quindi adesso Abbiamo Ecco qua No Che ecco qua Eccolo Aaaaa Quindi possiamo sostituire Il casco Antiradiazioni Con quello Aaaaa Quindi non è che sia proprio Questa Cosa Positiva Positiva Allora se salto si bugga Eccolo qua Se salto si bugga E non mi posso più muovere Quindi poi devo riaprire Ok Va bene Allora Aspettate Cosa ci possiamo fare adesso? Visto che comunque Il riciclatore Non è che sia Stato Utilissimo Però Ricordiamoci sempre Che con il nostro costruttore Possiamo fare altre cose Esempio Il bioreattore Trasforma la materia organica In energia elettrica Però nella scorsa puntata Noi abbiamo parlato Di un acquario E si E che dobbiamo assolutamente farci Secondo me E ci serve del vetro E del titanio Quindi Adesso Il titanio ce l'abbiamo Il vetro No Se non sbaglio Il vetro Non ce l'abbiamo Sì abbiamo uno di quarzo Però mi sa che Ci serve due Due Sì Due di quarzo Per fare un vetro E a noi serve Due di vetro Quindi dobbiamo trovarci Assolutamente Signori Del quarzo Quindi andiamo alla ricerca del quarzo Ma però Io davvero Non si dice ma però Pierre Però il problema È che Vedo che l'acqua Si abbassa velocemente Questa cosa non va bene C'è un modo Per cercare di farlo Dissetare In modo più Efficiente Comunque Andiamo alla ricerca del quarzo Sperando che in questa puntata Non ci rompa Sapete cosa Perché Ogni volta Cercare quarzo Eh mi sa che l'ho già trovato L'ho già trovato Dimmi che è il quarzo Quarzo Uno E ce ne serve un altro Vediamo Ce n'è altro qui Quarzo Quarzo Dimmi che ci sei Dimmi che ci sei quarzo Non c'è il quarzo Qui Maledetto quarzo Dai 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 Non mi dire che è una montagna Di quarzo No Questo è sale Niente da fare Raccogliamo Può essere sempre utile Qui E qui in mezzo Potrebbe Trovarsi del Quarzo Potrebbe Che cacchio è là Ah si Quella è là Ma questo attacca Boh Allora dicevamo Qui abbiamo già visto Ma non possiamo aprire Peccato Taglia per accedere Ma io non ho nulla Per tagliare Ci serve il taglierino Quindi dobbiamo Assolutamente Trovarci il taglierino Che cos'è questo Non posso far nulla Non posso far niente Un po' sfigato eh Va bene Il quarzo Il quarzo Il quarzo Il quarzo Dimmi che quarzo 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 Qui c'è tanto quarzo Quindi il quarzo si trova Vicino alle piante rosse Abbiamo solo 36 di ossigeno Benissimo Quello attacca Quello attacca Quello attacca Quello è pericoloso eh Attenzione Quello è mo Molto pericoloso Qui siamo In mezzo A un casino enorme Mamma mia Che schifo Comunque Che Chi è Eh mamma mia Vado Vado Addio amico Cosa vuoi Cosa vola Cosa vola Eccola lì La nostra cassa Siamo quasi arrivati Quello sta sempre lì Bene Allora Siamo pronti Vediamo a cosa serve l'acquario Sono davvero molto curioso signori Perché Grazie Una volta che abbiamo scoperto Che si può costruire In questo Magnifico Subnautica Io Non sto più nella pelle E Non vedo l'ora di Giocarmi questo titolo Perché Voglio assolutamente Continuare a costruire cose Che non ho mai costruito Ho sentito un rumore strano Posso farmi la torcia Ma non mi interessa Allora Noi ci possiamo fare Adesso L'acquario Ma dove lo posizioniamo L'acquario Ce lo mettiamo qui Vai Non me lo fa mettere Pezzo di fango Non mi piace tantissimo Andarlo a mettere Serve più spazio Serve più spazio Come faccio più spazio Ma come lo metto l'acquario Ragazzi Qualcosa non torna Secondo me Se a fianco Due tubature del genere Potrei avere più spazio Può essere Perché io davvero Non capisco Lì sotto c'è qualcosa Comunque Va bene Dicevo Qui ho fatto il vetro Forse per quello Non Però io qui potrei metterlo Qui potrei metterlo Vediamo Se si può mettere Non si può mettere Lo posso mettere solo così Non mi piace questa cosa Non posso affiancarli Non posso fare una struttura Ancora più grande Se lo affianco qui Allargo lo spazio Mettiamolo Però ci serve il titanio Mi vado a prendere un po' di titanio Non lo so Non capisco ragazzi Titanio Dov'è? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Uno Va bene il titanio Possiamo continuare a costruire Oppure ci sono ancora problemi Vado Non capisco perché non mi faccia Spazi più ampi Questa cosa non mi piace tantissimo Perché c'è davvero poco spazio Comunque Adesso abbiamo creato ancora ulteriore spazio Riusciremo a mettere Penso che qui Possiamo mettere l'acquario Secondo me qui l'acquario ci va Non ci va Come Ma Non ci va Dai ho fatto di tutto per crearmi l'acquario Non me lo fa mettere Può essere che è basso Sì ma come faccio a farlo più alto Quindi per il momento Per il momento Non possiamo fare l'acquario Servirà qualcosa Io nel frattempo devo anche nutrirmi Quindi devo trovare Un po' Di sostentamento A noi serve questa Taglierina laser Per aprire quelle porte chiuse Però non abbiamo Gli ingredienti Ci è arrivato messa La radio La radio Facciamoci la radio Dobbiamo farci la radio signori Assolutamente È il momento di farci la radio Perché È molto utile Eccola qui Ce la piazziamo qui Vai Ok Ascoltiamo Ok A metà Certo Certo ci voglio non Eccola qui Eh aspettate Continua a parlare Ma io dico Così non mi fate capire nulla Oggi andiamo Andiamo un po' ad esplorare Dobbiamo trovare qualcosina Dobbiamo trovare qualcosina Perché Dobbiamo trovare il progetto Per il seghetto Dobbiamo assolutamente Trovare il progetto Per il seghetto Io voglio assolutamente Il progetto Devo trovare assolutamente Qualcosa di utile Sperando di non trovare Qualche mostro marino Di quelli Importanti E imponenti Cosa volete Qui ci sono molti Stalker Ma non Non vedo nulla Cos'è lì Cos'è lì Con penetrazioni Le gemelle Kessler Sono uniti Ma stanno facendo qualcosa Di strano Vabbè Qua attenzione Cos'è qui Chi è che esce da Ho sentito qualcosa di Qua Mi sa che non abbiamo visto No Qui non abbiamo visto Attenzione Cos'è questo Non ci serve questo Progetto del Seaglade Qui Seaglade E questi non ci servono Ancora non l'avevo Va bene Seaglade Dai Solo Seaglade Mi dai Dai solo si Devo salire Comunque non siamo proprio Profondi Ok Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Cos'è questo Questo cos'è Cestino dei rifiuti Vai Benissimo Va bene Ci serviva il cestino Aquad Benissimo Importante Che troviamo sempre qualcosa di nuovo Cestino dei rifiuti Per buttare tipo Le batterie Scariche Lì sotto Lì sotto c'è qualcosa di importante Lì sotto c'è qualcosa di bello Che co' Arriva qui Arriva qui No Non arriva Ma c'è la lava Lì C'è la lava Cos'è questo Vabbè Prendiamo Ok Oddio Oh oh Come esco adesso No Non mi dire che adesso Non posso più uscire Quindi devo stare pure attento Perché qui esplode tutto Oddio Oh Con penetrazioni Beh Vai qui Quarzo Prendi tutto Argento 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 Ho paura Non rimaniamo qui eh Non rimaniamo qui Vai 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 Prendi L'argento Piombo Tutto Oh mio dio Qua succede il casino Qui c'ha ma Ah Ci facciamo male Sali 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 Scappa 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 Non possiamo scendere di più Almeno per adesso Comunque qualcosa ce la siamo portata Ci siamo fatti malissimo Allora cerchiamo di andare via Il più possibile dalla nostra navicella Almeno per il momento In modo da capire se riusciremo a trovare qualcosa di importante Secondo me qualche capsula la possiamo trovare Non c'è niente ragazzi Tredici per cento Che cos'è Che cos'è quel coso Oddio Oddio che cos'è quel coso Scappa vai via Scappa e vai via Non mi dire che sta avvenendo Oddio c'era una bestia gigante Oddio No vabbè ragazzi No noi non possiamo rischiare così adesso Non abbiamo protezioni Mi avete anche detto Pier spostati solo quando hai la navicella Perché mi avete detto che si può Si possono fare navicelle Che cos'è Che cos'è Che cos'è Devo Albero fungo Va bene Questo Che cos'è Posso prenderlo Gru Ma è un occhio Che cos'è Questo bioma Bellissimo 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 questo bioma Qui Costruire qui sopra È bellissimo Posso prendere qualcosa Albero fungo Campione fungino Va bene Prendiamocene un altro Per sicurezza Vai Vai Per sicurezza Può essere utile Saliamo Deboli tracce Deboli tralce Tralce No tralce Si sta No 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 Si sta facendo buio Si sta facendo buio Andiamocene via Me ne vado via Me ne vado via Si è scaricato anche il Seaglade Signori Quindi Quest'oggi abbiamo fatto davvero molto poco Ho bisogno dei vostri consigli assolutamente Perché voglio Uno Costruirmi la taglierina Per andare in quella zona dove abbiamo visto Che c'è una parte C'è fumo lì O sono nuvole Vi avete detto anche che vicino alla nave madre C'è un mostro pericolosissimo Guardate non si infila Nei corridoi non si possono mettere queste cose Che sfiga Il cestino Il cestino si Almeno quello Mamma mia Mettiamolo qui Lo metto qui Vai Vai Eccolo qua E quindi posso decidere adesso Tipo di buttare questa batteria La metto qui E che mi serve Il cestino Eh Ah lo metti lì e sparisce Eh ma che figata È una figata assurda Bellissimo Bellissimo il cestino Vabbè Piattaforma mobile per veicoli Eh lingotto di titano Lubrificante E cella di energia Radio faro potrebbe essere anche utile Ehm Fabbrica veicoli da materiali grezzi Allora Cella di energia Come si fa? Cella di energia Due batteri Ah Annaggia Le batterie servivano a quello E la gomma siliconica No La gomma siliconica Ce l'abbiamo Cos'è che ci chiedeva più? No Non ci credo Cella di energia Quindi dobbiamo farci due batterie Vabbè Non è un problema Il rame ce l'abbiamo E ci serve solo l'acido Scusate Fatemi prendere l'acido Uno Due Tre E quattro Prendiamone un altro per sicurezza Ok Aspettate perché io adesso devo sostituire Sostituisco la batteria Quella Scarica del Seaglade Adesso vi faccio vedere io una cosa Epica Signori Epica Prima di chiudere Vi faccio vedere una cosa epica Uno Due Ok La cella di energia ce la possiamo fare Però prima di Farci la cella di energia Io sostituisco Perché io cretino non sono E quindi mi vado a mettere Questa batteria qui E spegni E mi vado a mettere Come si sostituisce Ok Questa qui Ok Adesso Con quelle scariche Mi faccio La cella di energia Mamma mia Oh 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 Quindi Adesso Vai Che Che è sta cosa Che 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 cosa Possiamo farci Il simut No No Ci serve Non ci vuole nulla Fare il simut Non ci vuole nulla Abbiamo tutto La cella di energia La possiamo fare facilmente Il vetro ce l'abbiamo già Signori Credibile Cioè in poche parole Questo Cosa fa In poche parole Crea No bellissimo Crea i veicoli Iuppi Iuppi Quindi signori Nella prossima puntata Ci faremo Il simut Adesso ci siamo fatti La piattaforma Nella prossima Il simut E abbiamo anche La radio Che ci chiama Io vi do un bacione Un abbraccione E A quad A tutti A quad A quad Un abbraccione 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 Un abbraccione